Uno scontro diretto da non perdere, una sfida che potrebbe rappresentare la svolta del campionato di una delle due. Atletico Anzio Lavigno e Virtus Cauri che si affrontano fra loro nella quinta giornata di ritorno della Serie C2 Girone D sanno quanto pesano i tre punti in questo match fondamentali più che mai per rimanere attaccata in classifica alla capolista Mirafina. Va Antonio Conte sulla doppia battuta del calcio d'angolo direttamente all'indietro con Davide Simeone, subito tocco sotto misura arriva il vantaggio. Volevo anche continuare il discorso che avevo iniziato proprio prima, proprio l'atteggiamento con cui sono entrate le due formazioni c'è raddoppio, raddoppio di Davide Simeone. Forse anche un paio in precedenza, attenzione però c'è stato questo gol realizzato da parte Moncada. Tiro da parte di Simone Moncada che trova la porta, si apre incomprensibilmente la barriera dello Scauri. Il rinvio da parte di Anzio Lavigno che può provare con quest'azione che viene sfruttata nel migliore dei modi, gol dunque da parte della squadra di casa. C'è Simeoni sul pallone, chiede l'1-2 con il proprio compagno di squadra che va a realizzare il gol da parte di Bisecco, splendido frateggio con Simeoni. Ricorsa da parte di Simone Moncada, tiro di Simone Moncada che colpisce il palo, è stato fortunato il portiere Petrella che sembrava battuto, non è stata concretizzata dallo Scauri. E c'è il gol del 4-3 direttamente sugli sviluppi di un calcio d'angolo, grave distrazione difensiva da parte della difesa di casa. Operato dal numero 11 vicino, contropiede, attenzione contropiede da parte di Guastaferro e poi arriva il gol, bellissimo, questa azione personale dunque che è stata concretizzata. Lazio Lavinio dunque deve cercare di iniziare bene la partita, cosa che sta facendo, intervento è scivolata, attenzione, sono davanti al portiere, c'è il gol realizzato subito da parte di Tabanelli che accorcia le distanze. Pallone che viene conquistato adesso da Simeoni, di prima intenzione il palo colpito da Simeone, Lazio Lavinio con Vicino, Vicino che mette dentro il pallone, forse c'è un calcio di rigore che viene fischiato, giustissimo, parte Vicino. Tiro di vicino e gol, il pareggio dunque da parte di Lazio Lavinio che si riporta dunque sulla situazione di parità. Bravo Vicino a dare questo pallone dentro, incredibile, pantagruelica occasione che è stata sciupata da Tabanelli a tu per tu con il portiere. Arma il destro di Tabanelli che viene ribattuto e poi una nuova conclusione che trova reattivo, pronto, accettare passivamente appunto il pressing. Attenzione intanto il tiro e il palo colpito dal numero 7 Ascente. Finisce dunque il match, un match davvero molto bello, intenso, spettacolare che è stato risolto dunque con il pareggio. Cinque pari dunque fra le due formazioni, Atletico, Anzio Lavinio e Scauri, dunque pareggiano e in classifica sicuramente ad avvantaggiarsi di questo risultato è la Mirafin che dunque si allunga nei confronti delle due battistrada. Una partita molto bella. Grazie a tutti.